Uno dei fili conduttori che attraversano e che legano tra loro i temi di una possibile storia delle teorie filosofiche di età, di età moderna, è quello che riguarda senz'altro le avventurose vicende della ragione critica, o meglio la difficile e contrastata affermazione del pensiero critico-razionale, del pensiero scientifico, ancora l'affermazione della nuova scienza di età moderna contro le forze del dogmatismo, della censura, dell'autoritarismo di tipo politico e religioso. Un capitolo importante all'interno di questa storia è rappresentato senz'altro della filosofia di Cartesio. Filosofia di Cartesio, la cui diffusione nelle università, dei principali centri culturali universitari europei, scatenò la reazione di coloro che vi vedevano, vedevano nella proposta filosofica, nella metafisica, nella filosofia cartesiana, una pericolosa minaccia alle verità della religione cristiana. Proprio per questo motivo vorrei iniziare questa serie di video lezioni dedicate alla filosofia di Cartesio partendo dalla fine, cioè al momento in cui poco prima della morte del suo autore il cartesianesimo incontrò l'intolleranza e il dogmatismo fanatico di tipo religioso. Nel 1642 infatti l'università olandese di Utrecht su istigazione del teologo ultraconservatore, nonché rettore dell'università Gispertus Boetius, l'università di Utrecht quindi nel 1642 aveva condannato con vigore l'insegnamento della filosofia cartesiana. La nuova scienza, sosteneva Boetius, minacciava i principi fondamentali della religione rivelata. Su avviso, ad avviso di Boetius e dei teologi di università, l'idea copernicana, ecco qui una parte del problema, una parte soltanto del problema che scatenerà le reazioni dei teologi, l'idea copernicana che Cartesio non sostenne mai apertamente ma che comunque appoggiò in modo chiaro, l'idea copernicana quindi secondo cui al centro del sistema planetario e delle orbite stellari, vi era quindi il sole e non la terra, ecco questa idea, questo nuovo modello astronomico entrava in contraddizione palese con le scritture e questo è un primo momento, un primo motivo della contrarietà che questi teologi esprimono nei confronti della filosofia di Cartesio, filosofia di Cartesio che a un certo punto verrà anche censurata. Ma non è solo e non è tanto la questione della difesa cartesiana del modello astronomico di Copernico. La filosofia cartesiana, il suo metodo particolare, conduceva sempre secondo i teologi all'aperto scetticismo e dunque dall'aperto scetticismo anche alla fine di ogni credenza, ancora una volta, nella religione cristiana. La metafisica cartesiana inoltre, quindi altro aspetto del problema che condurrà alla censura, contraddiceva diversi dogmi della della religione, ed era assolutamente incompatibile con la filosofia antica, filosofia antica che intrisa di aristotelismo costituiva ancora il nucleo dell'insegnamento universitario della filosofia. Quindi i problemi che fanno reagire il mondo culturale, il mondo ecclesiastico, il mondo accademico nei confronti del cartesianesimo hanno a che fare con il metodo, con lo scetticismo cartesiano che può condurre al crollo di ogni fede nella religione, alla sua metafisica che contraddice alcuni dogmi, alcuni dogmi cristiani e la sua incompatibilità con la filosofia aristotelica insegnata ancora nelle università e nelle scuole e l'ha il sostegno dato da Cartesio all'idea copernicana. Nel 1646, quindi, anche l'università di Leida segue l'esempio dell'università di Utrecht, proclamando che solo la filosofia aristotelica sarebbe stata insegnata agli allievi. Il senato accademico quindi proibì ai professori delle facoltà di filosofia e teologie anche soltanto di pronunciare, di citare il nome di Cartesio e figuriamoci ovviamente anche le sue idee rivoluzionarie durante le lezioni. Il contrasto alla filosofia cartesiana però esce anche dai confini dell'università e dal ristretto ambito accademico. Infatti il consiglio provinciale d'Olanda, cioè il superiore organo politico degli stati di Olanda, dichiarò senza mezzi termini che tutti i professori di filosofia, per serbare la pace e la concordia, dovevano giurare solennemente di non divulgare più i principi filosofici ispirati al pensiero di Cartesio, motivo di scandalo per molti. Quindi ecco qui la totale opposizione sia in ambito accademico, sia in ambito politico al cartesianesimo e la censura nei suoi confronti. Le ragioni per la quale il cartesianesimo aveva scatenato questo putiferio, una reazione tanto appassionata e tanto decisa era per il fatto che secondo agli occhi di molti di fatto il cartesianesimo minacciava un intero sistema, un intero edificio intellettuale e religioso. Per secoli infatti la filosofia e la teologia che si erano insegnate nelle scuole e all'università erano state profondamente intrise, profondamente impregnate di aristotelismo, di filosofia aristotelica. Vedremo che questo sarà anche un motivo, un motivo di forti critiche da parte di Cartesio rispetto all'educazione, l'insegnamento da lui stesso ricevuto come qualcosa di fondamentalmente rivolto al passato e fortemente impregnato di aristotelismo. La nuova scienza, la nuova filosofia che abbiamo già cominciato ad imparare attraverso lo studio di Galilei, ecco, la nuova scienza, la nuova tendenza scientifica e filosofica invece si volevano disfarsi, si disfacevano proprio all'atto pratico di molti concetti e di molte categorie del pensiero aristotelico, come abbiamo già visto in Galilei, ma anche per Cartesio, quindi sia per la filosofia galileiana sia per quella cartesiana, il mondo fisico, che cos'è? Il mondo fisico va guardato come qualcosa che è composto unicamente di materia in movimento, materia in movimento guidata da leggi fisiche, quindi ogni spiegazione scientifica, ma quindi anche ogni spiegazione filosofica, perché la filosofia in questa epoca vuole darsi una veste scientifica, rigorosa, vuole essere la filosofia quasi una scienza rigorosa, ecco, quindi ogni spiegazione scientifica e filosofica valida, se vogliono essere valide devono rifarsi a questa visione del mondo come a qualcosa che è composto soltanto dalla materia, quindi rifarsi dunque solo a fenomeni di natura materiale, fenomeni di natura materiale che vanno studiati nelle loro parti misurabili e poi descritti in termini puramente matematici. Ma allora se la bisogna del mondo è tale per cui la realtà naturale va guardata soltanto come un insieme di fenomeni materiali guidato da leggi fisiche incontrovertibili, inderogabili, che vengono espresse in termini matematici, quindi all'interno di questa riduzione alla scienza del mondo naturale, allora nei corpi, nei fenomeni non bisogna vedere alcun potere occulto, nessun principio spirituale, nessuna essenza, come invece accade nella visione aristotelica, nella visione scientifica degli aristotelici. Nel mondo materiale quindi, secondo la nuova filosofia, la nuova scienza, perfettamente incarnati da Cartesio, nel mondo materiale non c'è spazio per quegli agenti di tipo spirituali grazie ai quali i professori universitari avevano per lungo tempo interpretato sulla scorta dell'aristotelismo il comportamento degli oggetti fisici. Avviene quindi una netta divisione, come già è accaduto in Galilei, una netta divisione tra il regno della materia e il regno dello spirito, e questa netta divisione tra il regno della materia e il regno dello spirito, cioè tra il regno dei fenomeni naturali retti da leggi fisiche, esprimibili in termini matematici, e il regno invece del pensiero, della coscienza. Questa divisione netta viene in seguito pattezzata dualismo e della tesi capitale della metafisica di Cartesio. Ma questa visione dualistica, tale per cui la realtà è fatta da una parte dalla materia, dall'altra parte dello spirito, dove c'è materia, non c'è spirito, dunque non c'è pensiero, dunque non c'è coscienza, dunque non c'è principio spirituale, dunque non c'è nemmeno una vita spirituale, non c'è la presenza di forze spirituali che muovono i fenomeni, ma i fenomeni sono mossi e spiegati unicamente da leggi fisico-matematiche, ecco, in questa visione materialistica cartesiana dell'ordine naturale, se questo è vero, se questa è corretta, allora molti passi della Bibbia non sono esatti, innanzitutto quelli relativi ai miracoli. Quindi, insomma, molti passi della Bibbia, in special modo quelli relativi ai miracoli, non sono, sono incompatibili con una spiegazione del mondo che avviene basandosi unicamente sulle leggi matematiche. E allora questi passi della Bibbia dovevano essere come Giagali, lei stesso aveva indicato, dovevano essere interpretati in senso figurato. Questa è una questione che ovviamente attira sul cartesianesimo le ire dei teologi. Il fatto quindi di cartesianesimo rappresenta una novità potenzialmente pericolosa per l'interpretazione della Bibbia come di un libro in cui è racchiuso una verità rivelata assolutamente indiscutibile. Inoltre il metodo cartesiano che conosceremo e vedremo così fondato sul dubbio, sull'importanza del dubbio, il metodo cartesiano secondo cui ogni vero filosofare incomincia con il dubbio perché filosofare è analizzare in modo critico ogni opinione, ogni considerazione, ogni conoscenza, analizzare in modo critico ogni credenza accreditata perché accolta in base a dogmatismo, in base al principio di autorità. Ecco questa stessa impostazione del pensiero di Cartesio, profondamente scettica rispetto a tutto ciò che viene acquisito in modo acritico e aproblematico, ecco proprio questo era questo atteggiamento, era ritenuto pericoloso per la fede perché poteva portare alla robina della religione e della morale comune legata ovviamente alla religione. E' proprio perché l'atteggiamento scettico, l'atteggiamento dubitativo della metodologia cartesiana che fa del dubbio un momento essenziale della ricerca filosofica, della ricerca scientifica, proprio per questo motivo la disputa su Cartesio finisce per travalicare, per oltrepassare i confini strettamente accademici e quindi attirare ecco su di sé le ire dei moralisti, le ire dei religiosi, le ire soprattutto dei calvinisti, i quali sostenevano che appunto la filosofia cartesiana forse potesse costituire il principio della rovina della religione e quindi della morale.